Luca, cosa si fa a quel materasso in camera? Pensavo di farne un pezzo di arredamento, o perlomeno un pezzo di design, per rendere più ricca la volumetria di questo posto, se no è un po' troppo scontata e legata alle quattro pareti, invece un arredamento morbido, non ortagonale, ti può forse aiutare, insomma, un po' a svecchiare questo ambiente è dominato da quadrati rettangoli, non trova tutto il buon nome. Ma questa sarebbe l'installazione definitiva? No, non è definitiva, proprio perché è qualcosa di contemporaneo, quindi come noi non è mai fisso, definitivo. Mettiamo sul muro? Cioè, puoi fare così... E voilà! È già una funzione diversa, adesso si può usare... È difficile che è cangiante, cambia anche... Esatto, rispetto... Tu hai la vita musicale in un certo grado.